Giuseppe Petrarca scrittore scrittore che inizia direi anche un po' in tarda età anche se è giovanissimo sta sul filo dei 60 anni 2-3 anni meno ai 60 scrive ed è e diventa prolifico nel giro di 4-5 anni pubblica un po' di volumi ma la cosa più bella e più significativa e più curiosa che voglio dire di questo scrittore napoletano è che oltre ad interrogarsi su temi che sono nella nostra vita civile temi drammatici ha vinto più premi che libri scritti voglio dire adesso lo chiediamo a lui Giuseppe Petrarca quanti libri? ciao ciao buonasera a tutti quanti libri? siamo per la saga del commissario Lombardo questo personaggio che ho inventato ormai sono 8 anni in effetti questo tragitto questo percorso è iniziato 8 anni fa quindi abbiamo una data come dire abbiamo anche possiamo fissare nel tempo questo percorso ed è un percorso che ha portato già alla pubblicazione di 4 libri sempre riferiti al commissario Lombardo a questa storia e a queste storie di gialli come dicevi anche di noire sociali abbiamo coniato un termine un po' particolare questo giallo sociale perché coniuga diciamo le ambientazioni noire con quelli che sono dei problemi come dicevi tu drammatici ma che ci appartengono e appartengono alla società e poi la pubblicazione di un piccolo racconto che ha vinto il Michelangelo Buonarroti è di un libro che è versione digitale che tra poco diventerà in versione cartacea invece ho voluto dedicare a Napoli e al Sud in qualche modo rievocando quel 1980 così nefasto e cioè i giorni del 23 novembre dell'80 quindi queste sono più o meno le pubblicazioni fatte i premi sono tantissimi devo dire la verità questo sì tanti riconoscimenti che corroborano mi danno forza sì dopo mi sì qualcuno dei premi che hai qualcuno dei premi posso dire l'avvoltoio che questo libro un po' anche profetico vinse nel 2018 il Garfagnana che insomma credo che sia uno tante un premio importante per i giallisti insomma soprattutto qui da noi dal sud insomma è un premio che vale molto ma poi sono tanti sono stato alla Camera dei Deputati a Roma con il premio Comunicare per l'Europa sono stato aspolito più volte per il premio Art Festival ho vinto il Firenze Letteratura il Milano International col premio speciale Logos Cultura andrò sabato a ritirare il Cignus Reus a Roma per l'avvoltoio sempre Notte Nera invece con Notte Nera andrò a Milano come dicevo questo capiterà il 6 di marzo con una premiazione molto importante che avverrà l'Istituto Ciechi di Milano e tanti altri adesso anche premi Campani perché se no sembra che siano solo le altre regioni che considerano e apprezzano questi romanzi ma anche premi Campani molti premi Campani tra questo i giornalisti Flegrei un premio importante avuto dai giornalisti Flegrei il Megaris il premio speciale Megaris che è un premio diciamo storico che appartiene un po' a tutti noi questi sì tanti riconoscimenti che ripeto certamente insieme all'apprezzamento che il pubblico i lettori gli amici hanno dato nel corso di questo tempo a questi scritti a questi romanzi mi hanno dato come dire anche la forza di continuare anche in momenti difficili in momenti come quello che abbiamo attraversato e attraversiamo e soprattutto perché per scrittori poco diciamo emergenti o comunque meno conosciuti rispetto alla ribalta del pubblico tutto questo corollario di premi seri tra l'altro vorrei dire insomma questo è importante forse sottolineare il premio spoleto è un premio a me caro a me caro anche per le persone perché poi vedi Franco questi premi non sono solo riconoscimenti e danno soddisfazioni e grande grande emozione ma ti permettono e ti consentono di riannodare dei fili con tutta una serie di persone di relazioni di gente di cultura in quest'Italia in questo paese e scopri davvero tante altre grandi realtà piccole o medie che siano però di persone di elaborazione di arte che può essere quella scritta può essere quella invece visiva e quindi questa cosa ti mette in relazione con un mondo che tu in qualche modo certe volte noi che viviamo nell'ambito delle nostre chiusi si può dire no? Certe volte nell'ambito delle nostre cose le nostre poche cose c'è anche un'apertura mentale enorme straordinaria un arricchimento una crescita fondamentale forse più del premio stesso no? Sì passiamo ai libri ai libri e parto da inchiostro rosso che tra l'altro è il vincitore del premio Spolete Art Festival un premio importantissimo e inchiostro rosso che è un noir che ecco parte e va a scandagliare nelle lobby farmaceutiche mi sembra è un libro del 2013 forse è il primo che hai scritto e che sembra scritto in questi giorni sì in effetti c'è una una sorta di profezia che parte lontana parte appunto da inchiostro rosso proprio perché io lettore accanito di noir di gialli di thriller in genere poi mi ero in qualche modo affezionato a creare ecco questo fondale sanitario e parlare di problemi che erano importanti per tutti che non appartenevano alla malasanità spicciola ma erano problemi come le grandi strategie appunto delle lobby farmaceutiche che si avviluppano su di noi sono fili invisibili noi possiamo fare tutte le teorie che vogliamo ma rimangono teorie restano solamente nostre supposizioni e illazioni in realtà le strategie come quelle delle grandi potenze delle grandi multinazionali anche per le lobby farmaceutiche vale lo stesso discorso quindi inventare questa storia che poi con il dottor Marfella che poi mi è diventato siamo diventati amici amici per la pelle insomma l'oncologo della terra dei fuchi mi disse che la mia fantasia in qualche modo non era così spinta perché la realtà forse in qualche modo era anche peggiore rispetto a quello che io in qualche modo avevo architettato in questo inchiostro rosso dove c'è un biologo un ricercatore che viene ucciso nell'ambito di una una storia molto molto oscura di una manovra sanitaria e in questo caso ecco parte proprio da inchiostro rosso diciamo l'avventura che poi si snuda attraverso corpi senza storia che è un noir come sai sul disagio mentale affronto la cosiddetta degli ospedali psichiatrici parlo di un viaggio negli ospedali psichiatrici nel discorso del concetto di normalità cosa è davvero normale in questa nostra società dove c'è gente invece che ammanta e ostenta un perbenismo solo di facciata ma in realtà fa più male più paura di tante altre anime innocenti come queste anime che erano state e sono state relegate nei manicomi poi affronto e nell'avvoltoio diciamo che è il terzo libro che è ambientato in Sicilia e non a Milano che è drammatico perché in quel caso l'escursus è su non solo l'immigrazione che in quegli anni quando io ho scritto il libro sembrava essere l'unico problema che attanagliava anche il nostro paese non c'erano altri problemi erano scomparse le disoccupazioni i problemi economici ma c'era solo il problema dell'immigrazione quindi affronto idealmente questo problema dell'immigrazione del traffico d'organi che è un problema tabù orribile orrendo e in questo senso purtroppo io pregonizzo una pandemia cioè purtroppo ancora adesso rileggendo quelle quelle pagine da brivido anche io mi meraviglio con me stesso perché il sentire di un autore arriva a tanto certe volte quasi a diventare come dire quasi un nefasto profeta di sventure perché io pregonizzavo una pandemia cioè all'interno di un centro di accoglienza deflagra questa pandemia che poi si espande purtroppo e infiamma la Sicilia e i territori anche fino a diventare una vera infezione una vera pandemia e immaginavo appunto che la gente non si potesse più stringere la mano una polmonite interstiziale delle consonanze straordinariamente veramente terribili con quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in realtà quella pandemia per me era una pandemia idealizzata era il contatto noi non volevamo più avere contatti con gli altri con l'altro volevamo chiuderci a riccio sempre di più all'interno delle nostre case delle nostre abitazioni la paura dell'altro di contaminarci con l'altro la contaminazione quindi era una contaminazione sociale economica culturale non era una contaminazione della pandemia io l'avevo idealizzata quella pandemia non potevo sapere che poi quella pandemia diventasse purtroppo l'incubo di questi giorni il pane quotidiano nostro il pane quotidiano e in quella situazione in quella situazione drammatica l'uomo che si era chiuso a riccio in qualche modo poi è stato agevolato in quella che era come dire una nostra già velletà una nostra aspirazione chiudendoci dentro definitivamente barricandoci come ci ha fatto barricare purtroppo il virus che il covid che è arrivato e poi finisce appunto questo escursus con Notte Nera che è un libro direi davvero voglio dire che il titolo stesso già in qualche modo prefigura quella che è questa Notte Nera dove siamo incapsulati ingabbiati dove il tempo si è perso dove siamo dentro una bolla una bolla davvero che ha perso la forza l'etica della malattia l'etica della malattia ho cercato anche di parlare di malattie di fine vita in Notte Nera perché davvero dobbiamo dirlo franco la malattia è sempre stata vista come una fragilità molti l'hanno nascosta si nascondeva agli altri si diceva sempre che le cose potessero andare meglio di quelle che erano perché abbiamo paura di mostrarci per quello che siamo e quasi perché la malattia per molti era vista addirittura come un marchio un'unta quasi come una colpa da espiare e quindi anche in questo senso la malattia invece veniva trasfigurata in questo in un senso completamente negativo e soprattutto non era accompagnata non sempre accompagnata da quella solidarietà che sarebbe auspicabile soprattutto nei momenti più difficili della vita di un uomo dell'esistenza Notte Nera è il libro tuo più premiato no? forse come premi anche l'avvoltoio direi c'è una bella gara tra i due premi Notte Nera come dicevo prima riceverà un premio che è molto importante perché il premio Milano International è un premio internazionale di grande caratura vincere il premio Logos Cultura cioè un premio particolare speciale all'interno di questa rassegna che poi tra l'altro è una rassegna curata da Roberto Sarra che è un vero e proprio happening una vera e propria grande manifestazione di cultura non è solo la premiazione fine a se stessa non è una cerimonia è uno spettacolo è un grande evento ed essere dentro questo evento a Milano per me sarà il 6 di marzo insomma una grandissima soddisfazione adesso? il 6 di marzo adesso adesso in questi giorni quindi pioggia di premi si potrebbe si potrebbe dire ma ma arriviamo al libro che poi rievoca in tutti noi dei minuti dei secondi drammatici il 23 novembre 1980 il terremoto le spallate del terremoto in questi giorni con tutte le rievocazioni che abbiamo avuto per i presidenti della repubblica rimbombano ancora nelle nostre orecchie nella nostra mente le denunce di Sandro Pertini che poi portarono anche ad uno scossone lì politico fu rimosso il prefetto Reo secondo il presidente della repubblica di non aver mosso subito i soccorsi si favoreggiava anche di un ricevimento in prefettura mentre c'era gente che moriva lì sepolta ecco questo libro Terra Mara che poi subirà un piccolo cambiamento nel titolo come nasce? ecco questa credo era un'esigenza un'esigenza forte io in quegli giorni il 23 novembre 17enne ho vissuto il dramma collettivo il dramma di un'intera comunità che in qualche modo è una ferita che come sai anche tu non si è mai rimarginata è una ferita che noi siamo si può dire i figli del terremoto ci definiscono la città puntellata che è poi il titolo definitivo per quanto riguarda la pubblicazione cartacea che sarà curata da cento autori mentre volevo dirlo così solo velocemente il percorso della saga di Lombardo è curata da Aldo Putignano e dalla sua meravigliosa casa editrice che è Homo Scrivens una ottima realtà Napoli che mi ha curato ed è stata sempre con me in questi anni invece per quanto riguarda questo libro del terremoto che prima è uscito in versione pubblicata in versione solo digitale con la Delos Digital che è una società di edizione milanese adesso sarà pubblicata ad aprile con cento autori sono contento di questa novità e lo farò molto volentieri e abbiamo focalizzato il titolo più che su Terra Mara su questa città puntellata perché è ancora puntellata perché è ancora puntellata paradossalmente dopo ormai ormai saranno passati sono più di 40 anni dall'evento e viviamo ancora in questa precarietà ecco il senso del libro è anche questo non solo di affrontare quell'anno che è un anno se mi consenti orribile no il 1980 non possiamo ricordarlo solo per i meravigliosi anni 80 cioè per quello che potevano essere i successi musicali e discografici il 1980 è stato un anno orribile è l'anno della strage di Ustica è l'anno della strage alla stazione di Bologna oltre a essere l'anno appunto anche del terremoto quindi un anno davvero nefasto un anno terribile e in quel 23 novembre 1980 si innesta questa spaccatura questa lacerazione questa terra che si che va completamente a deflagrare su se stessa perché questo terremoto diventa poi la piaga di tutte le piaghe perché alimenta quelle che sono l'ascesa della Camorra delle lotte di Camorra c'era il terrorismo in quegli anni e soprattutto Napoli ha vissuto e forse vive ancora quella precarietà quell'attesa io credo proprio che mi soffermo molto nel libro proprio sul concetto dell'attesa noi soprattutto nel meridione siamo sempre in una perenne attesa questa attesa questa notte come diceva pure Edoardo che tarda a passare ce la portiamo sulle spalle da sempre è ormai atavica questa sensazione di non poter mai essere è come se noi avessimo preso coscienza della nostra situazione della nostra esistenza dei nostri problemi della precarietà che abbiamo del fatto che siamo su una terra davvero ballerina noi siamo sempre in bilico sempre in equilibrio tra un problema e l'altro ma pur avendo preso coscienza di questa nostra situazione così precaria quasi fallimentare sappiamo purtroppo certe volte che non riusciamo ad uscirne che siamo avvolti e che questo punto di svolta certe volte non arriva o tarda ad arrivare e qui la grande riflessione che io cerco di fare perlomeno l'obiettivo ambizioso che mi pongo di portare il lettore oltre quella storia di quei giorni con cinque personaggi che si muovono dentro quello scenario tra l'altro cinque personaggi di cui uno lo devo dire per onore di professione uno giornalista giornalista del mattino è un giornalista del mattino infatti io ringrazio molti giornalisti del mattino che mi hanno dato oltre te Franco mi hanno dato una mano anche il compianto Carlo Franco tra questi è stato un ispiratore mi ha dato dei consigli il maestro Carlo Franco purtroppo che non c'è più dobbiamo diciamo così ricordare e fare memoria anche di un altro grande maestro che da pochi giorni ci ha lasciato e che io ho inserito come personaggio all'interno della storia che è Nazario Bruno che è un poeta napoletano che addirittura ha fatto delle cose straordinarie lui ha scritto un libro traducendo la Divina Commedia e i primi cantici dell'inferno in un napoletano tra l'altro aulico un napoletano veramente di altissimo profilo anche lui ci ha lasciato da pochi giorni purtroppo anche lui per il covid e che tra l'altro c'è una poesia all'interno del libro che è sua che io ho metabolizzato e riportato all'interno della narrazione e quindi c'è quest'altro personaggio c'è Antonio Marfella che in qualche modo in quei giorni muoveva i primi passi come medico l'oncologo in quei giorni muoveva i primi passi in quelle ore dove i medici davano soccorso alle popolazioni ci sono due insegnanti che vivono storie tormentate anche di rapporti familiari ecco cinque storie minimali come potremmo dire ordinarie di vita che noi viviamo ogni giorno quelle di ogni giorno e sullo sfondo la storia la grande storia la storia fatta purtroppo di dolore di lacerazione di corruzione politica in quegli anni di investimenti sbagliati e in questo terremoto si muovono questi personaggi ecco questo libro è dedicato a questo momento e si apre come tu sai con quell'immagine che poi diventerà anche la copertina del libro del 19 settembre di qualche mese prima quando San Gennaro quando il il patrono non riesce a fare non dà il sangue non c'è la liquefazione del sangue del miracolo e quindi è quasi come si prefigurassero che quei grumi che rimangono la sciagura che rimangono ecco esatto che rimangono solidi all'interno delle ampolle diventassero poi le pietre che cadono sulla coscienza sulle coscienze nostre di quegli anni quindi un presagio davvero funesto che è quello appunto del non scioglimento del sangue del miracolo del patrono un libro che diciamo di fantasia ma che si cavano nella realtà la disegnano e la raccontano come come vera ecco è la realtà di quei giorni una realtà che arriva fino ai nostri fino a queste ore ne parlavamo prima e un terremoto infinito tu dicevi se andiamo in giro per la provincia di Napoli e vediamo ancora questi rioni puntellati questi palazzi puntellati e soprattutto la nascita di quei rioni come il parco Salicelle di Afragola il parco verde di Caivano dove al degrado materiale si aggiunge un degrado morale ecco il senso di questi libri Giuseppe bellissimi il prossimo ma il prossimo sicuramente sarà ancora una quinta edizione perché già mi è stata chiesta del commissario Lombardo e questa volta sposterò completamente fuori dall'Italia la scena diciamo così perché io poi immagino sempre i miei libri come delle scene come delle narrazioni vive non so perché tu sai che davvero la scrittura quando penetra all'interno della vita di un autore la cambia la stravolge profondamente e quindi si può dire che la persona che all'inizio inizia un percorso sicuramente poi viene trasfigurato nell'ambito di quello che è il percorso che farà alla fine non è più la stessa persona va in territori oscuri quasi fuori da se stesso fuori dalle proprie certe volte anche dalle proprie possibilità quindi questo libro sarà ambientato addirittura in Venezuela per la voglia di Cosimo e della compagna di adottare un bambino ma lì troveranno un altro gravissimo problema che in qualche modo sfiorerà la coppia non lo diciamo possiamo anche anticiparlo che purtroppo oltre quello che io ho sempre un occhio nei miei libri anche in quel raccontino che ti dicevo che il coraggio di Nicolai che vinse su 400 racconti vinse il primo posto al Michelangelo Buonarroti di Seravezza a Forte dei Marmi e ho sempre un occhio verso l'infanzia abbandonata l'infanzia deturpata violentata verso i bambini e quindi questo senso di adozione rientra anche in quello che voglio dire cioè parlo delle condizioni disumane che vivono in gran parte anche nell'America Latina e purtroppo sfioro anche il gravissimo e penso enorme problema che è quello del traffico di droga di quelle parti per chiudere con lo scrittore Giuseppe Petrarca che ha la sua famiglia il suo figliolo grande e il suo impegno lavorativo che non è cosa poca eppure scrive e scrive tanto quando trovi il tempo di scrivere ma soprattutto la notte come si dice porta consiglio nel momento in cui si spengono le luci della giornata ma soprattutto si spengono i cellulari potremmo dire che sono questa nostra dannazione che ci portiamo ogni giorno con noi siamo soli con noi stessi e poi soprattutto anche nei periodi estivi forse Chiostrosso nasce proprio a cavallo tra luglio e agosto di otto anni fa è il momento migliore è il momento in cui abbiamo bisogno davvero come dicevo prima mi diceva Manganelli uno scrittore Giorgio Manganelli diceva si va in territori questo è bellissimo il fatto che si va in territori che sono sconosciuti al nostro io al nostro modo di pensare in un subliminale che in qualche modo ci porta a diventare altre persone quindi una volta per un racconto che mi fu chiesto sulla pace davvero la pace sai benissimo è un tema molto caro ma ci sono troppi racconti troppe cose trite e ritrite sull'argomento è difficile trovare qualcosa di originale inventare la storia di un fotoreporter che andava invece sui luoghi di guerra al contrario per vedere davvero ecco per entrare in quel personaggio davvero in quella notte io sono diventato un fotoreporter svedese che ero lì sui luoghi di guerra davvero ho sognato di esserlo ho cercato di calarmi leggendo delle cose abbientando in certe situazioni e solo così ho tirato fuori quel racconto che volevo che era un racconto forte ecco bisogna entrare in meccanismi in mondi e come diceva anche la Jorzenauer cioè cercare di prendere le parole che ci sono però sono sparse un po' dovunque quindi come un mago un rabdomante l'autore lo scrittore deve cercare di raccoglierli mettere insieme e di farle diventare poi pensiero parola scrittura e farla diventare testimonianza perché la scrittura e questo è quello che dico sempre con grande forza non è come la lettura non sono due apparentemente cose simili cioè due atti di intima solitudine perché noi in realtà quando leggiamo e scriviamo siamo soli con noi stessi sembrerebbero due atti di intima solitudine quindi di uguale equivalenza di uguale portata non è così la scrittura quando è una scrittura autocelebrativa quando è una scrittura vera una scrittura che parte dal cuore e arriva perché va a comunicare quando ti mette a nudo e ti espone anche al giudizio degli altri senza paura diventa comunicazione diventa la forza che noi abbiamo ancora oggi per poter davvero dire delle cose in un mondo davvero dolente in un mondo che ha perso la speranza in un mondo che fa fatica anche a ragionare sui valori base sui valori di umanità e di eguaglianza e quindi ci rimane questo ci rimane ancora questo per poter parlare con la gente grazie 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 allo scrittore Giuseppe Petrarca che ci ha fatto da grande sceneggiatore pure lo voglio dire adesso ci ha fatto vedere il film dei suoi dei suoi racconti dei suoi libri e facendo i miei calcoli noi ci vedremo ecco luglio-agosto ci possiamo pure vedere settembre-ottobre per il nuovo libro di Giuseppe Petrarca grazie grazie a voi grazie Franco grazie a voi